Perché? Perché presentiamo due libri apparentemente diversi tra di loro, perché gli autori che li hanno scritti sono diversi, ma che da un certo punto di vista raccontano con ironia, satire e sarcasmo duro, affilato e tagliente, ci raccontano gli anni da cui arriviamo. Cioè quattro mesi fa, sembra 10 mila anni. Ammesso che siano finiti. Ogni tanto torna, perché l'ultima è geniale, l'ho detto a lei, quella che ha letto su Twitter, l'ultima sull'euro. Il burleuro. Il burleuro, ha fatto il burleuro, ecco qua. Vabbè, avete capito di cosa stiamo parlando, allora presenteremo, parliamo del libro di Riccardo Chiaberge. Riccardo Chiaberge è uno dei più importanti giornalisti culturali italiani, ha diretto per 10 anni il supplemento della Domenica del Sole 24 Ore, arrivava dal Corriere della Sera, ha poi diretto il supplemento culturale del Fatto Quotidiano, Saturno e Riccardo Chiaberge lo... E a un certo punto cos'è successo per trovarsi con me sul palco, cioè... E perché ho scritto queste cose? No, perché... E perché c'ho un'anima buffonesca? Perché Riccardo Chiaberge... C'è la verità. Per tutti i lettori... È la mia seconda natura, ma forse è la più importante. È la più importante, è una delle più indispensabili, perché Riccardo Chiaberge per tanti anni, sia su Sole 24 Ore e poi anche su Saturno del Fatto Quotidiano, curava una rubrica intitolata Vespe, ed era la rubrica più letta, tutte le domeniche gli intellettuali italiani aprivano il supplemento del Sole 24 Ore, terrorizzati di apparire dentro una Vespa di Riccardo Chiaberge, ha fatto a fette, appunto, tutti i grandi mostri sacri della cultura italiana, così... Qualcuno era contento. Era contento anche perché poi c'era ogni anno il premio della Vespa d'Oro, no? Certo, sì, che un anno fu data a Faletti e Faletti si aspettava una Vespa ma nel senso dello scooter, pensava che fosse un premio sponsorizzato dal viaggio. Tipo Lambretta, invece Lambretta, Vespe... Ma invece era semplicemente uno spillino d'oro, insomma, e quindi non aveva niente a che fare con lo scooter, è rimasto un po' male. Però Vespe, al contrario, già al singolare ci basta, no? Ce ne basta uno per dire di Vespa, però ce ne sarà dentro... Ma Vespa al plurale è un po' meglio. Meglio, meglio Vespa. C'è anche lui tra i Vespizzati, quindi sono vendette tra insetti. Eh, però magari poi lo leggiamo, magari poi lo leggiamo, ecco, quindi Riccardo... Riccardo Chiaberge è quindi andato, ha raccolto, in questo libro, uscito adesso per Radioeditore, sono raccolte moltissime delle sue Vespe. Fra l'altro ordinate non secondo un ordine tematico, cronologico, ma secondo un ordine esoterico, che sta tutto nella mente di Riccardo Chiaberge, che però è anche interessante andare a rintracciare, provare a ricostruire. Ma, insomma, adesso poi Riccardo Chiaberge ce ne parlerà e ragioneremo con lui anche di questo. Adesso veniamo al cazzeggio. No, vabbè, insomma, cazzeggio non mica tanti, ho letto delle cose, altro che anche Vespe qui, belle puntute, nel libro di Dario Vergasso, La Pantarai, La Notizia School... Che sembra un trattato di Wittgenstein, perché il trattatus di Wittgenstein è una serie di proposizioni. Ha fatto il tecnico e basta, io mi sono fermato al tecnico, cioè andiamo oltre. Andiamo oltre. Se no non capisco neanche cosa dici, se vai avanti. No, vabbè, comunque, sono una serie di proposizioni, no, sono battute, sono numerate, ce ne sono più di mille. Mille e trecento, che adesso le leggo tutte, mille e trecento finché una non dice basta, che è l'unico modo per farmi dire basta da una, è leggerle mille e trecento battute delle mie. Potrebbe funzionare, credo. Insomma, questo è Riccardo Chiaberge già lì che sfoglia il libro, le Vespe, le Vespe, le Pantarai, Dario Vergasso. Ne ho subito preso una a caso, la 811, voglio vedere se lui ci ricorda che cos'è la 811. Ma non so neanche cosa ho scritto, non mi ricordo neanche cosa c'è. Esce il nuovo libro di Papa Ratzinger, Gesù di Nazareth, dall'ingresso in Gerusalemme fino alla Resurrezione. Sono proprio curioso di sapere come va a finire. Questa si sapeva perché, però posso dire una cosa... No, ma questa è di attualità perché hai visto... Ho visto che oggi funziona bene, però posso dire una cosa, sulle battute parto dicendo una cosa. Siccome le battute sono quelle cose che vengono, cioè c'è una notizia, uno seria, maestro e discepolo, vi chiamoro così, e basta che uno aggiunge una cosa può cambiare la cosa. Tipo, non so, c'era scritto sul giornale, furto in casa Veltroni, la figlia dormiva, io ho aggiunto tutto a suo padre, punto, e veniva fuori un'insensatezza più o meno. Ora, siccome cercavamo di fare una cosa, parlo plurale perché ho degli autori molto bravi che sono qua dentro, perché sono Tamburrino, Melloni e Tiano, perché siamo un gruppetto ormai che dalla Dandini in poi siamo andati avanti abbastanza. La Dandini, non vorrei aprire il libro, nel senso che per sapere quanti anni alla Dandini gli ho fatto fare il Carbonio 14 dai RIS di Parma e ancora non sappiamo da dove è uscita. Però, insomma, la battuta è questa cosa che nasce quando non si capisce bene come una cosa elettrica, uno l'accende e tutti la vedono, però c'è sempre stata e c'è sempre, indipendentemente da sesso, età, politica, quando il cazzari al bar c'è pieno e a volte basta vedere una cosa e c'è già la battuta. È come quando si va per funghi in 4-5, che passa al primo non lo trova, passa al secondo non lo trova, il quarto dice un porcino, però l'ultimo della squadra dice un porcino di 5 kg, cazzano, siamo passati tutti di lì, per quello che poi la mazza non lo sotterra, non gli rubano un fungo, però dicono come mai, finché non l'accendi non la vedi. Cercavamo una battuta su Ratzinger perché aveva detto un giorno che il preservativo non serviva. Ora, siccome io ho tutta una... Io non voglio sapere del rapporto di Vergassola con i preservativi. No, io sono contrario, perché mi fa sudare la mano, sono contrario all'uso dei preservativi, quindi non sono quelli che c'è stupidaggine, 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 c'è una battuta molto bella, non mia, di, credo che l'ho sentita Letterman, che dice questo va dal medico e il medico dice lei dovrebbe smettere di masturbarsi, questo dice perché dottore? Perché la sto visitando, la trovo meravigliosa. Vabbè, quella che ha fatto ridere più di tutti e non è mia, infatti, non è mia. Però insomma, cercavamo questa cosa qua di Papa Ratzinger per andare, per il sedicesimo, perché ha detto che il preservativo non serviva, ci sembrava doveroso fare una battuta. Abbiamo cercato lì come tre incoglionizi a cercare una battuta, cercando di non essere volgari, perché le battute devono essere fatte così, non devono essere a canimento contro qualcuno, deve essere un cazzeggio anche su tua mamma, così passa e ce l'hai, e non ci siamo resi conto che la battuta era già nel nome del Papa, cioè c'era già, e adesso di qua a Milano facciamo un'altra, con tutto il rispetto del mondo, la battuta era già nel nome e cognome. Questo è un momento fellini all'interno del nostro festival. Fantastico. È il Family Day, dice il Chiavelli. Dove Berlusconi non era andato, naturalmente, perché non lo facevano entrare. Abbiamo detto, l'immunologo Benedetto XVI, tornando dall'Africa, ha detto che il preservativo non serve, o Benedetto, ma XVI meno cazzate, cioè questo XVI portava in giro, cioè quindi c'era già, ma non vuol dire, non era contro, cioè capito? È solo che c'era già, le battute ci sono, basta solo trovarle. Ecco, questa è la cazzata. È quello che dice poi Marco Travaglio nella prefazione del libro di Dario Vergassola, quando dice che ti danno l'impressione queste battute che esistono già in natura. No, ci sono, come Plutonio con un'arricchita, ma... Ma perché non avete fatto un, diglielo al tuo editore, non avete fatto l'indice dei nomi? Cioè, sono bellissimi i titoli, sai tenere un segreto, il sonno della regione genera mostri, cattolico simile... È più bello il raggruppamento in fondo, vero, che le cazzate che sono scritte? Sono come le cose più belle, il titolo che... Sì, sono bellissimi i titoli, sono... No, però a proposito di indici dei nomi, invece nel libro di Riccardo Chiaberge è molto divertente andare a sfogliare l'indice dei nomi perché... E tutti sono andati a vedere subito quello, insomma. Tutti? Ma ci sarò anch'io. Ci sono in effetti tutti, non ci sono... Ci sono tutti, ma ci sono tutti, tutti, tutti. No, infatti può essere... Allora, io voglio chiedere a Chiaberge, no, perché... Adesso qui stiamo, come direbbe Freud, stiamo cazzeggiando, ma c'è un elemento interessante, cioè prendersela con i mostri sacri della cultura italiana non è una cosa... Soprattutto se si fa il giornalista culturale è una cosa proprio semplice da cui si può venire fuori con le ossa ancora tutte sane. Allora, io voglio chiedere a Riccardo Chiaberge e poi magari leggiamo una Vespa, ce la racconti, ne facciamo una in diretta, insomma, chi sono quelli che si sono più arrabbiati? Cioè, intellettuali italiani che si sono presi in maniera più forte, più... Beh, diciamo che uno che però non c'è qui perché era la raccolta precedente è stato Pietrangelo Buttafuoco, però in effetti lì avevo esagerato un po'. Avevo calcato un po' la mano e anzi approfitto di questa occasione per chiedere pubblicamente scusa a Pietrangelo Buttafuoco. Però cosa avevi scritto? Perché lo avevo definito un nazi arabo. Nazi arabo? Insomma, è un po' pesante. Lui ha minacciato Querela e devo dire che in quell'occasione De Bortoli manifestò, era a quell'epoca il direttore del Sole 24 Ore, con un grande sprezzo del pericolo, si espose in prima persona e disse La Vespa sono io, quella è la me. E allora la cosa finì in nulla. Ma altri mostri sacchi presi, un altro che si è arrabbiato molto? Un altro che si è arrabbiato molto recentemente è un collega che è molto importante, Aldo Cazzullo, che io l'avevo benignamente sfottuto perché il suo romanzo era stato così, a mio avviso trascurato, aveva avuto soltanto sei recensioni tra il Corriere e gli allegati, insomma, nell'arco di una settimana. Poche. Appunto, erano troppo poche, poi erano critiche, insomma, ovviamente, per cui così gli avevamo detto che eravamo solidali con lui per questo trattamento. e lui mi ha mandato un sms facendo una Vespa della Vespa, dicendo che non si dice Trifulè, ma come io avevo scritto, e Trifulè sono quelli che vanno a raccogliere i tartufi ad Alba e che sono tra i protagonisti del suo romanzo, ma si dice Trifulau. Io sono andato a controllare, ma insomma, dipende da che paese va, insomma, a distanza di pochi chilometri c'è una piccola variante semantica. Alto, bassa, langa, non passano. Però, insomma, andiamo a vedere il pelo nell'uovo, però chiaramente... No, anche perché dopo che fanno la ricerca così, ma tanto la firma Cazzullo è rovinata, cioè non è che... Scrive Riccardo Chiabergia, smorzare l'affanno dei langaroli preoccupati per la penuria di tartufi giunge la notizia del casuale ritrovamento di un tubero d'autore. Il primo romanzo dell'Albese, Aldo Cazzullo, la mia anima è ovunque tu sia. Un intrigo partigiano ambientato per l'appunto su quelle colline. La preziosa pepita per ora circola soltanto nei club più esclusivi dei trifulau, e questo è il termine, che hanno potuto sbirciare le prime copie staffette nelle pause... È stato corretto, credo. È stato corretto. Sì, è stato corretto perché... Sì, grazie all'apporto dell'autore. Vabbè, insomma... Vuoi leggerla, vuoi raccontarcela? Se vuoi, sì. So se non vorrei annoiare. Che hanno potuto sbirciare le prime copie staffette nelle pause dell'addestramento dei cani. Il lancio è avvenuto in sordina con tipico riservo piemontese. Domenica scorsa un sommesso tra filetto sulle pagine milanesi Il Corriere della Sera, nel quale Cazzullo invitava i lettori al teatro Carcano, martedì 4, per uno spettacolo senza fini di lucro tratto dal suo Viva l'Italia, che nell'ultimo capoverso lasciava cadere con nonchalance. Per la prima volta si leggeranno pagine del nuovo libro, che esce proprio quel giorno. Poi mercoledì, ancora sul Corriere, pagine culturali, l'imparziale verdetto del collega Antonio Dorrico. Un romanzo spietato e inesorabile che colpisce al cuore. E allora perché trattarlo così freddamente? Perché liquidarlo in sole misere 200 righe? E così via, insomma. Io farei un applauso a Stuomo perché, ragazzi, quello che dico io lentamente a battuta cazzeggio, lui è molto più fine e raffinato, però colpisce ancora più duramente, questa è una cosa terribile. Quindi non starà simpatico. È una cosa tra intellettuali dove io non centro niente, se dia vuole. Però mi sembra di capire che quando picchia, picchia, insomma, picchia duro. Picchia durissimo, picchia durissimo. Con poi la raffinatezza dello stile, la costruzione dell'articolo, la consapevolezza che si sta picchia... È più un ragno che una vespa, direi. Tesse la sua tela dentro. Anche se mi sembra di capire che... L'editore è ragno. L'aragno si chiama ragno, quindi è un trattato... Ecco, bisogna scrivere... Non è un trattato di entomologia questo libro. Si chiama vespe, edito da ragno, quindi ci siamo. Infatti Lia Celi, che doveva presentare questo libro a Bologna, poi l'abbiamo annullato per via del terremoto... Lia Celi, un umorista, buon sopra... Ha scritto un Twitter, diceva, le mie figlie, prima commentavano, ma dice, come mai mamma è di là che ride tanto? Sta leggendo un libro sugli insetti. Ah, era questo, era vespe, era vespe. Invece anche Pantarai non è una cosa di Eraclito? No, assolutamente. Vergognosamente è rubata, perché il Pantarai, sulla notizia scorre, perché noi abbiamo vissuto questo periodo in Rai, naturalmente, dove adesso non ci siamo neanche più, dove le notizie erano così. E' più la Rai, però. Non c'è qualcosa, però c'erano alcune notizie dove, tipo, non so, davano questo tipo di notizie. Berlusconi ha bestemmiato per sminuire la vicenda e il Tg1 nega l'esistenza di Dio. Ecco, erano queste le stupidaggini. Quindi siamo imbastiti in questa cosa qua e io c'ho un po' di, se volete così avanzo di farvelo leggere e comprare, però c'hanno un po' di stupidaggini, perché prendevamo veramente le notizie del giorno, erano queste. A proposito del ruolo di futura libertà nella coalizione, la russa dichiara al Tg3 che in natura non esistono esseri con una terza gamba. Abbiamo aggiunto, parla per te, è stato il commento. In serata di Rocco Sifredi, questa è facile, perché ci siamo. Poi abbiamo, all'interno del Partito Democratico, sempre Veltroni, affondato il Movimento Democratico con un obiettivo preciso e immediato, capire perché, che anche questo ci piaceva a noi. Poi c'eravamo stupidaggini, tipo, non so, quando si è operato Berlusconi alla mano, abbiamo detto, facciamo un paio di battute, vediamo come va a finire, che magari l'anestesia è leggera, ma uno è forse allergico, invece no, tutto bene. che abbiamo fatto, settimana prossima Berlusconi si opererà alla mano, Capezzone, Bondi e Cicchito sono molto preoccupati, anche perché toccherà a uno di loro accompagnarlo a fare pipì, e quindi ci piaceva capire questa cosa. L'altro era Berlusconi operato alla mano, dall'inizio della legislatura è il primo problema che gli ha dato la sinistra. Questa è un po' vespe, è un po' vespe, è un po' vespe, ci siamo. Poi c'erano delle stupidaggini anche di cronaca, c'era la regione Lazio, la Polverini, con una circolare evitata di pendenti l'uso di Facebook, i lavoratori per appresaglia gli hanno tolto l'amicizia, questa è una cazzata che ci avevamo, però una che mi piaceva era Santoro, sospeso dieci giorni, ancora prima che buttassero fuori tutti, Santoro, sospeso dieci giorni per l'espressione vaffambicchiere, cioè ha detto vaffambicchiere, gli altri, pensa che culo li facevano se diceva caraffa, anche questa era una contenzione che ci piaceva. E poi una stupidaggine che la dico, ma le lasciamo lì, abbiamo delle battute, era capezzone, questa non ce l'ha messa nel libro perché sembrava una cosa molto offensiva che davanti a vespe, cioè capezzone colpito al volto da un pugno, comunque dalle prime lastre alla faccia risulta una lesione all'osso sacro. E questa sembrava una cazzata, ma ci sia. E poi una l'abbiamo trovata sul giornale e l'abbiamo lasciata come era, ora Bocchino attende Berlusconi per una volta non è il contrario, non l'abbiamo toccata, è rimasta identica. E l'altra, l'Escorn Nadia, tutto vero, perché poi c'era quella di Casoria, come si chiamava, Noemi, che adesso sarà grande, ci avrà già 15 anni a quest'ora, ha scritto un libro ai miei primi settantenni, credo che stia scrivendo. E dice, l'Escorn Nadia, dice, dichiara per fare sesso, tutto vero, per fare sesso Berlusconi mi pagò 5.000 euro, Brunetta soltanto 300. Io l'ho trovata fantastica. È un grande, l'ho deciso di tagliare poi sulle mignote, grande, grande Brunetta. Una volta Brunetta, volevo portarlo, ma se mi casca dal palco muore. Io posso parlare di Brunetta, in altezza, perché sono basso anch'io. Quando entro nel bar, tutti i miei amici mi dicono, di mezza sega, rispondo finisci, ma questo è il trucco che si usa nel bar. E c'era questa cosa qua, una volta Brunetta ha detto, fino a 18 anni non sapevo farmi il letto. E gli ho detto, per forza dormivi sul cuscino, e si è incazzato subito. Quindi sono queste stupidaggini che arrivano a disgame. Sembra tutta roba di 3.000 anni fa, però sembra veramente tutta roba vecchia. Adesso non più delle mie, adesso le ricolleggiamo le vespe, però l'ha trovata un'altra? Ma volevo lanciare una provocazione. Secondo voi? No, dato che c'è questo, dedica all'inizio del libro di Dario, a Silvio ci manchi, punto esclamativo, effettivamente è vero che Silvio manca a tutti i satirici, tutti i comici italiani, insomma che spesso, io francamente, di vedere l'ennesima imitazione, non faccio nomi, di Lucia Annunziata, non mi fa ridere per niente, insomma. Guarda che lei, è l'Annunziata che fa la guzzanti. Forse non avevo capito. Però volevo chiedere, ma perché non cambiate un po' repertorio e bersagli? Per esempio, perché non fate qualche sketch e qualche battuta su Grillo? Ah, io su Grillo ho più di fare... Perché ormai lui non è più un comico, un politico, allora prendiamolo per i problemi. Più che i grillini, da quanto hanno vinto sono diventate cavallette, questa è la stupidaggine. Io a Spezia, siccome ho votato Grillo per motivi che non so, in care, ho fatto a Genova, no, no, a Genova ho fatto la campagna elettorale per Doria a gratis, insieme a Don Gallo, quindi figuriamoci, però a Spezia era una condizione talmente, poi ognuno nel suo conosce la sua e quindi noi c'è, noi c'è una situazione abbastanza così, però ho votato, l'ho scritto anche dicendo che ha votato Grillo, non penserò mai di votarlo probabilmente alle politiche e tutta la serie di cazzate che ha detto dai figli di immigrati non possono avere la cittadinanza, uscire dall'euro insieme alla Spagna al Portogallo, un'allegra brigata di dove andiamo in giro all'emosinare questa cosa. Un complotto. E poi c'era anche questa cosa dell'uscita dall'euro e poi c'era anche quella cosa dove Subbossi inizialmente lo copriva un po' dicendo che poi non era così male, quindi parlare male della Lega in questo momento è come picchiare uno che caga diciamo noi al bar, quindi cosa si può dire? La croce rossa. Si spara di tutto però del trota che abbiamo detto anche che era il primo pesce senza fosforo in realtà l'unica cosa è che c'era una battuta che c'è sul libro dove dice che Bossi a una riunione di ministri ha portato anche il trota e la risposta come l'ha portato gli ha detto mica potevo lasciarlo da solo a casa col rischio che si ingoiava tutti i gurmiti e quindi è trattato un po' così quindi però ci hanno dato anche delle cose su Grillo arriveranno delle cose divertenti già su Parma mi sembra di capire che c'è già qualche scazzo tra uno che deve entrare e uno che deve uscire quindi darei il tempo a questi di formarsi un po' c'è da dire che l'altro è meraviglioso però Chiabergia se la prende con Grillo in una vespa ce n'è una dove Carl Krauss è la casta dei blogger ah sì ma quella però non fa ridere però è interessante no però è interessante ma questa è un archista ciclabile oh signori non capisco non capisco buonasera siamo nell'isola pedonale quindi è giusto è il momento dei non timidi meno male che non passa un pullman la scenografia dei Monty Python quelle cose lì che passano sì sì è fantastica era bello se tornava col bimbo di prima che se lo rimpallano due anziani divertenti no dicevo Chiabergia se la prende con Grillo la sta anche riprendendo siamo qua noi ragazzo ma dove? no qui con Carl Krauss è una no non se la ricorda mentre lui la cerca vorrei dire che il ragazzo con la telecamera in realtà sta guardando un porno lo vedo finge di riprendere ma no se la prende con Grillo pagina 187 la sa anche ah c'è 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 eh sì che c'è sui blogger e no perché c'è tutta la retorica di Grillo giustamente utilizziamo internet ma io non vado manco su internet lo dico sono uno di quelli che non c'è io non riesco a andare neanche cioè non vado sui porno perché ho paura che cancella la cronologia non funzioni quindi già quello mi basta e sono terrorizzato non riesco a entrarci insomma insomma una forma di paranoia no no rimango cioè faccio come il buon ragazzo che ha due HS lì sta guardando la leggiamo maestro? no vabbè non è che sia da leggere però è una riflessione interessante semplicemente una riflessione perché riguarda l'esplosione è una cosa del 2008 cioè un po' vecchia come analisi però è avanti perché era l'esplosione dei blogger che in America in particolare era un fenomeno già in atto da tempo e stava arrivando in Italia stanno preparando la serata per il fachiro c'è uno di Murano che sta preparando no e allora semplicemente si faceva notare appunto questa democrazia della blogosfera era una è tuttora insomma una delle bandiere della destra americana non della sinistra i libertani ha sdiriso e allora questi signori sono certamente favorevoli alla democrazia del web ma sono a favore della globalizzazione delle biotecnologie si oppongono all'intervento dello Stato nell'economia quindi dicevo come la mettiamo con cioè c'era una incongruenza rispetto a questa cosa avete capito la differenza tra l'intellettuale e il cazzaro stasera si dice cose molto sensate però a volte non capisco neanche cioè a volte non capisco cosa dice lui a volte neanche quello che capisco non capisco che è difficile ma però sugli intellettuali che dicono e scrivono delle cose che nessuno è in grado di capire forse compresi anche quelli che le hanno scritte qui Riccardo Chiavergine cacciari per esempio cacciari c'è una vesco che scrivi in otto lingue diverse le parole coi trattini ed è una roba in tedesco in greco in ebraico ma cacciari c'è o lo fa secondo lei come? cacciari è così o fa finta o finta ma no la domanda che io mi faccio è un'altra sembra che ce l'ha di cauccio è un'altra ma si tinge anche la barba questa è la domanda eh sì perché insomma tingersi i capelli sono capaci tutti non a parte noi è una battuta ma la barba non parliamo usciamo da questo tingersi la barba secondo lei la cosa che esce da questo feste va dalla felicità uno tingendosi la barba può essere felice insomma questa è l'idea è sempre verde anzi sempre nero però ci sono alcuni stiamo dicendo una stella di mostruosità allora ci sono alcuni mostri si diceva sugli intellettuali che scrivono robe incomprensionali intere generazioni di rivoluzionari intere generazioni di filosofi si sono formati su un librone che vorremmo che conosce uno che l'ha letto per intero e che si è in grado di comprenderlo che è mille piani capitalismo e schizofrenia scusate un attimo potrebbe alzare la mano chi ha letto i mille piani i mille piani di Deleuze e Gattari adesso ve la te uno laggiù in fondo e uno psicopatico la in fondo finge sono mille pagine ma no ma un libro importante un libro su cui volvi riflettere i mille piani di morbidezza sapete che no è Riccardo Chiaberge in una delle sue vespe non so se ha fatto l'hai letto tutto no perché certo se lo legge no a solo aperto a caso a pagina 750 no non l'ho letto per niente ho aperto così lo citi come ho aperto Vergassola lo stesso esatto si no ma Vergassola si può leggere a caso pagina 811 insomma le principali caratteristiche scrivevano Deleuze e Gattari libro ovviamente che ha fondato e ha formato moltissimi movimento del 76 movimento del 76 le principali caratteristiche delle molteplicità concernono i loro elementi che sono singolarità e di per sé già non ho capito neanche quello che ha detto le loro relazioni che sono divenire i loro eventi che sono ecceità qui è un richiamo ad Aristotele cioè individuazioni senza oggetto cioè si premurano oppure di specificare i loro spazi tempi che sono spazi lisci il loro modello di realizzazione che è il rizoma il loro piano di composizione che costituisce Platò ma non basta continua poi a dire Riccardo Chiaberge ragionando su allora come mai insomma tutti sono moltissimi intellettuali moltissimi scrittori che scrivono per non farsi leggere e per non farsi capire come mai però nonostante questo diventano dei mostri sacri beh perché l'oscurità insomma in qualche modo fa parte del fascino e poi insomma uno non deve mica averlo letto basta che ce l'abbia lì e poi ne discute insomma no e quindi non ho idea io ho un tavolino che balla ma quello lì deve essere troppo grande però io a Cacciari una volta gli ho detto ma non è Cacciari questo non è Cacciari no no sono rimasto dietro a Cacciari perché dicevo a Cacciari una volta si dice sempre prenderla con filosofia lei con filosofia l'ha mai presa e lui se l'è scritta non ho capito perché neanche se l'ha capita cosa ho detto io però se l'è scritta in un foglietto l'ha rimessa in tasca si sa pensava altro ma questa e su questa cosa qua me lo rispieghi un attimo cosa avete detto ma non lo so ah basta allora è normale non c'è nulla da capire perché sulla schizofrenia c'è una battuta molto bella di un medico americano che non mi ha c'è una bella battuta che dice prima ero schizofrenico adesso siamo guariti è molto bella dunque dico solo che l'ultima affermazione di questa vespa di Riccardo Cheverge il libro si chiama mille piani e proprio mille piani di morbidezza è quella che ce l'ha messa io invece a proposito di mostri sac a proposito di mostri basta io una volta ho intervistato le dico una peridia stupida perché quando faccio le domande a volte capiscono a volte non capiscono cioè c'è alcune alcune di quelle che ho intervistato le subrettone per esempio ma anche i politici calciatori eccetera e quando facevamo Zelig alcune non solo non capivano la domanda ma cercavano di tentavano di dare una risposta a una domanda che non capivano quindi non capivo io la risposta e veniva fuori un cortocircuito meraviglioso una roba quasi filosofica e tipo una volta all'avventura gli avevo detto gli ho detto perché le rispondono sempre quando uno fa la domanda convinte che uno fa il giornalista e gli ho detto si ricorda la sua prima volta lei mai tossì gli ho detto quanti eravate tutti che ridevano e lei ha cominciato a contare con due mani gli ho detto guardi che è una battuta normale perché stava contando però una a livello il mostro sacro ad esempio una volta ho intervistato Valeria Marini posso fare questo esempio perché si cade cioè questa vale la sempre noi ci possiamo incalzare in piedi no no state qua la Marini intanto è gigantesca è così è proposito di morbidezza è proposito è così solo la testa lo dico perché l'ho vista da vicino è così è gigantesca si muove così si muove la testa poi muove le braccia parte il culo in contropeso fa così ride e saluta è un enorme caro di Viareggio che saluta la Marini quando passano i bimbi è meravigliosa basta che ti ricoriandoli lei è contenta è meravigliosa è gigantesca per truccarla intanto è larga esattamente come i corridoi della RAI a misura tant'è che due astuti bianchini gli ha messo due rulli e lei dal bianco mentre camminava questa è una cazzata che uno con la pennellessa fa i controsoffitti ma questo è per gli intellettuali per truccarla ci sono delle stanze degli hangar la tirano giù con delle carrucole gigantesche dei canadesi e urlano casca un classico lei arriva giù la mettono così e poi la chiamano nel gergo la chiamano l'insaccato gli mettono tre paia di calze contenitive l'insaccato e il giorno è passato un signore gli ha fatto uno spellone tracchetto in una coscia poi ha fatto ancora sale la sale non so fanno una salta sagra comunque per dire insomma ci sono avvicinato alla fine sono arrivato a Marini gigantesca gli ho detto Valeria Marini e il suo agente gli ha detto te te a lei perché non capiva ma perché è fuori sincro di 24 ore basta cioè gli fai una domanda risponde esattamente cioè gli dici che ore sono ti dice dai dai sì sì ancora ancora cioè non so dopo il 24 ore ti è piaciuto lei dice sette e un quarto cioè così è fuori mi sono avvicinato e gli ho detto e se non solo non ha capito la domanda mi ha dato una risposta che secondo me ha superato la domanda era da mettere nei mille piani c'è un momento ho detto Valeria Marini lei sa cantare ballare e recitare lei mi ha detto sì e già era un risultato e gli ho detto perché ce l'ha tenuto nascosto fino adesso tutti che ridevano lei ha iniziato a spiegare perché lo teneva nascosto e io l'ho trovata scusate geniale io l'ho fatto un applauso alla Marini perché la trovo è stata molto molto bella cioè l'idea di avere davanti questa roba qua mi ha fatto mi ha fatto sempre quindi alcune raggiungono delle cose meravigliose sulle indicazioni e alcuni non capivano la domanda tipo io faccio una cosa terrificante si chiama Carabinieri va ancora in onda dopo anni perché ognuno ha i suoi mutui ma c'era Walter Nudo c'erano quelli che recitavano bene e quelli che facevano un po' cagare e quelli come me che erano terribili e c'erano questi che recitiamo da cani noi compresi e Walter Nudo alto, bello, meraviglioso in questa fiction qua siccome recitava un po' così anche lui un po' male lo prendiamo un po' di culo e dicevamo Walter mi qua Walter mi qua Walter vieni lui arrivava no Walter mi qua è stato un mesetto uno col giornale uno tirava i legnetti è stata una cosa terrificante uno ha tentato gli altri da mangiare gli ho detto no che poi si affeziona queste cazzate qua e bello tutto di fronte a lui e lui non aveva capito nulla nulla e allora a un certo punto gli ho detto proviamo a vedere testiamolo ho detto ho detto Walter guarda che domani dovresti arrivare alle 6 perché devi fare l'antirabica lui mi ha guardato ma ha detto alle 6 e basta quindi è stata io credo che sia geniale però andrebbe messo vorrei capire no però stiamo fruscendo in un miracolo stiamo fruscendo a parlare insieme di Deleuze e di Valeria Marini come si fa a far entrare tutto questo nel festival della felicità perché rende felice cioè com'è maestro che riusciamo a infiliare questa roba qua e ci sta tutto io ho una risposta ce l'ho rispondi tu passiamo allora Deleuze Valeria Marini pensavo fosse un cantante all'inizio Deleuze ho detto Deleuze Valeria Marini Nietzsche Nietzsche diceva quando noi ridiamo mostriamo i denti ed è un segno della nostra aggressività perché siamo cattivi e non potevamo invitare anche Nietzsche è un uomo per la perfidia potevamo portare anche Nietzsche oggi qua e Nietzsche era occupato è morto a proposito di e poi l'aneddoto che lui raccontava dimostra che spesso il senso dello humor manca più agli uomini dello spettacolo che magari a uomini che noi consideriamo austeri seriosi e che invece hanno un insospettabile senso dell'ironia e dell'autoironia si prendono per il culo da soli per esempio Boncinelli Edoardo Boncinelli famoso biologo eccetera è uno che sforna a tre libri al mese io infatti a un certo punto ho fatto una vespa dicendo siamo preoccupati perché è una settimana che non esce un libro di Edoardo Boncinelli e ho fatto tutta una vespa su questo mi ha telefonato il lunedì perché uscivano la domenica le vespe uscivano col domenicale del sole mi ha telefonato il lunedì dicendo mi sono tenuto la pancia in mano poi lui diciamo che di pancia i miei figli mi hanno preso in giro tutta la domenica dicendo ha proprio ragione papà e insomma è questo per esempio Umberto Eco invece no perché vedete un colpe prendersela no beh Eco è un'altra storia perché Eco è uno che proprio per la sua capacità di rovesciare il senso delle cose il vero nel falso di fare questi giochi da grande semiologo quando lo abbiamo premiato perché lui aveva sostenuto che in Italia mancava un supplemento culturale no allora così io avevo fatto una vespa dicendo che lui andava in piazza del Duomo con la lanterna come Totò all'edicola a cercare un supplemento culturale no e forse cercava anche un Duomo gotico però non lo vedeva no ecco al che lui si era molto divertito però arrivò lì portando il testo di questa sua conferenza in cui se a suo avviso sosteneva che non aveva detto questo però insomma è come Berlusconi era stato interpretato male dai giornalisti io di Berlusconi una volta ho detto mente sapendo di smentire che non mi sembrava una brutta una brutta cosa però anche Berselli era una persona sembrava molto serio molto così però poi io una volta che ho intervistato grandissimo il mondo Berselli grandissimo infatti io quando sono arrivato al Domenicale e lui era l'unica nota diciamo di alleggerimento intelligente che c'era in un giornale per il resto piuttosto plumbeo e per cui io lo sfruttavo moltissimo faceva questi corsivi in prima pagina eccetera poi purtroppo lui andò all'Espresso Espresso e poi Repubblica e quindi ci lasciò e a quel punto cercai indegnamente di sostituirlo e così un po' nacquero le Vespe perché c'era un bisogno di uscire da questi paludamenti della cultura che si fa così che vuole intimidire insomma e credo che dopotutto ridere della cultura riesce meglio se la prendi veramente sul serio altrimenti non un bel giro vedi che sei uguale un applausone questo l'ho capita anch'io questo l'ho capita anch'io perché il cardo che verge quando scrive si capisce che non è poco a proposito purtroppo il tedesco lo so poco anche il greco antico l'ho studiato la liceo ma me lo so c'è andata di lusso io ho capito uno dei trucchi è mettere i trattini questa sera non riesco questa se ra se trattino se trattino ra è una cosa che funziona in genere sempre per passare intelligenti no c'è un i premi letterari se gli vuole non li ho mai presi quindi sono contento ma anche perché questo fa onore a Vergara i premi letterari le vespe di Riccardo ce ne sono molte dedicati al premio strega queste riunioni meravigliose la casa Bellonci tutti vecchi lì c'era anche un rischio che cascano giù da questo terrazzo perché insomma ogni anno come funziona un premio letterario uno dei miei scrittori preferiti Rodolfo Wilco che aveva una proposta per i premi letterari come premiare uno scrittore lui sosteneva che il premio letterario prima bisognava lubrificarlo molto ben bene e poi bisognava premiare il premiato in che modo in un modo si andiamo avanti abbiamo mica delle diapositive beh funziona che ognuno dei giurati io purtroppo faccio parte insomma dei 400 amici della domenica che sono quelli che devono votare per il premio strega riceve una quantità di telefonate lettere di presentazione o di autopresentazione dei candidati alcune sono veramente di una comicità irresistibile ad esempio appunto me ne è capitato uno addirittura con la lettera con la ceralacca scritta a penna come su una una pergamena antica di un autore che non nomino Barico no scherzo mi è venuto in mente Barico no Barico non concorre ma e poi sono soprattutto gli editori che dicono vorremmo condividere con lei la gioia di presentare questo ma perché dovrei condividerla e questa bottiglia con 30 bottiglie io non condivido nulla perché soprattutto non condivido i profitti che fa quell'editore vincendo lo strega ma li leggete veramente tutti i libri? no assolutamente ah questa è la notizia allora ci mancherebbe no cioè voglio dire c'è una preselezione che viene fatta da un comitato tecnico per cui già si assottiglia e alla fine si arriva con 11 libri quindi è una cosa umana 11 libri si possono quantomeno non dico leggere per intero tutti ma guardarli capirli insomma annusarli insomma avere un'idea e poi almeno 5 io li leggo faccio il compito dalla copertina fino alla fine tutto magari sì poi mi sono anche divertito a fare le pulci ad uno dei favoriti perché adesso le vespe sono diventate anche multimediali se andate sul sito lettera43.it ogni tanto faccio dei video in cui faccio una recensione per esempio di un libro e vado a scovare delle perle e per esempio ho trovato alcune perle nel libro di Piperno e le ho raccontate insomma e mi faccio coadiuvare dal mia bassottina che si chiama Lola dato che è pieno di critici cani tanto vale di razza almeno di razza assolutamente di razza è un bassottanana arlechino molto raffinato Riccardo solo una cosa sui libri su leggere i libri una volta ho intervistato perché i calciatori a volte sono come le veline ma senza tette una volta a Buffon che adesso scommettiamo che va bene cazzo Buffon una volta gli ho detto gli ho fatto una domanda gli ho detto posso fare un'intervista a un premio su Sky lui mi ha detto no un po' così un po' brusco gli ho detto vabbè mentre gli ho dato questo premio mentre eravamo gli ho detto però una domanda gliela posso fare gli ho detto è vero che la prima volta che ha letto un libro la prima volta che ha letto un libro non mi ricordo cosa a Cazzaroli avevo detto di una cosa su un libro che non mi ricordo neanche più e lui si è girato verso il suo amico e gli ha detto di di no e lui si è girato verso di me mi ha detto di di no a me cioè questa è la cosa che sono rimasto sconvolto e sono rimasto abbastanza affascinato non mi ricordo la domanda precisa perché a volte mi dimentico di avere l'Alzheimer però ho questa ho questa visione sui calciatori che sono fantastici allora Riccardo Chiaberge utilizza la sua bassotta come no per a caccia di libri eccetera c'è un altro sistema per non leggere i libri per intero e farsi un'idea è del sistema inventato da McLuhan McLuhan uno dei più importanti studiosi della comunicazione che sarà qui tra poco insieme a Nietzsche passerà in bicicletta qui davanti potremmo intercettarlo allora McLuhan appunto il ciclista McLuhan cazzare aveva questo utilizzava questo sistema no McLuhan diceva per capire per capire se un libro funziona o meno bisogna aprire la pagina 69 leggere la pagina 69 si può giudicare già un libro a partire non so per quale motivo dicessi allora io ho aperto non facciamo la battuta su 69 no dicevo che io ci arrivo a 50 pagine io ho aperto il libro di Vergasso la pagina 69 ho preso la prima battuta che mi è saltata sott'occhio e fa così così giudichiamo se il libro vale o meno e vale per solidarietà con gli studenti sui tetti Luca Cordero di Montezemolo è salito su un superattico questa è stupidaggine che sta andando di moda tra l'altro Cordero di Montezemolo sta andando bene vi leggo un paio di stupidaggine se volete andando avanti vediamo come è pagina 69 di Ricordo allora c'è di lì va vero fai vedere anche di lì poi vi racconto come sull'idea di battuta del bar che mi piace molto a proposito ce l'hai? cosa? hai trovato? no no mentre parlavo prima di cultura volevo fare anche un pensiero a Bondi perché non è che uno si dimette e poi viene dimenticato fa sempre bene fa sempre bene Bondi ha detto quando è crollata la domus dei gladiatori ha detto solo il caso ha voluto che in quel momento all'interno non ci fosse nessun gladiatore questa è allora cittime pagina 69 del libro di Riccardo Chiaverge davvero non è preparata utilizziamo il metodo McLuhan per giudicare questi due libri di cui parliamo oggi Chiaverge leggi? ma c'è una una puntura per Corona ma Corona non Fabrizio quello che scrive i libri primitivi sulla montagna ah l'altro è vero sì 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 sulla decrescita felice la decrescita felice sì i consumi i redditi eccetera eccetera che insomma che decrescono naturalmente senza bisogno che Corona ci esorti a farli decrescere non c'è problema non c'è problema insomma è come dire no che posso dire è troppo lungo a proposito di decrescita felice meno libri per tutti come auspica Marco Cassini di Minimum Fax se c'è qualcuno che dovrebbe abbracciare con entusiasmo questa prospettiva è proprio Mauro Corona con quel look da cavernicolo chic e la sua esibita frugalità montanara e invece no lui continua a scalare le vette della letteratura scaventando da 3000 metri sulle nostre povere teste pregevoli volumi che la Mondadori stampa regolarmente su carta non riciclata sei fetente un po' fetente un po' fetente questa è fetente è una vespa è una vespa c'è una persona no no stavo dicendo che sui libri era arrestato a Roma il capo del clan Moccia appena in tempo stava per scrivere un altro libro era una stupidaccia è una vespa è una vespa assolutamente senti io solito che vi dico due cose del bar perché no vorrei sapere come nascono ora uno deve fare l'intellettuale perché averci da vicino uno può fare anche le domande se volete anche toccarlo però uno cosa fa studia da piccolo non frequenta il bar come facciamo noi come funziona vi chiudete in una stanza e diventate intellettuale questo è quello che chiedere ma di chi stai parlando anche di lei maestro l'intellettuale è lui io non sono intellettuale è sempre stato un manovale della penna sono arrivato al giornalismo culturale attraverso il giornalismo economico forse avrei dovuto rimanere lì che rende meglio invece non so no ma perché siccome le stupidaggine io le trovo al bar mio oppure le sento in casa perché io quando uno dice quando mi chiedono a me invece le battute le cose io siccome vengo da questa famiglia operaia povera povera mia mamma faceva la contadina non voleva stominare in un paesino poi sposandosi è andata a abitare in città e è salita nella scala sociale cioè mia mamma da contadina è diventata donna di servizio al volo ha fatto questo slancio però la cosa bella che io raccontavo quando sono stato prima volta a Zelig raccontavo le cose di casa cioè mi sono presentato a Zelig raccontando le cose di casa loro pensavano che ci fosse sotto un autore invece raccontavo esattamente io racconto questi episodi che sembrano insignificanti ma secondo me danno un po' l'idea mi ricordo che un giorno mia madre mentre mio padre ci stavamo bisticciando a tavola mia madre giuro è tutto vero è arrivata durissima ha dato un pugno sul tavolo ha detto basta quando fate così mi fate venire un orgasmo ha detto mia mamma al volo e mio papà mi ha guardato e mi ha detto salutala finché ci riconosce questa è la cosa secondo me perché sono le chiuse che danno perché è la chiusa che dà l'idea cioè non so adesso vi dico vi dico perché qua vale anche per l'intellettuale qualsiasi nel senso cioè allora le battute vi dico io poi possiamo anche andarcene a mangiare forse e da qualche parte possiamo passare compulsionalmente in bicicletta qui davanti tutti saremmo non so in 300 400 tutti su e giù qua è bello se passassi la miraglia nel giro d'Italia no ma questo pezzettino solo questo con le palline e a quanto punto è una messa è una messa in opera di mille piani di Deleuze Gattari anche i famosi mille che tutti stasera entrano a comprare e cercheranno però io ho trovato il punto peggiore maestri per dare una battuta e fare una chiusa secondo me sono le situazioni disperate cioè tipo non so in un cinema porno io a Firenze ci sono andato perché non perché ci sono mai andato però io sono vecchio ormai non c'erano manco quando c'ero io però chiudevano per documentare per testimoniare dicono tutti così no ma io ero già anziano ormai tagliando le scene porno all'inizio infatti ci sono da vedere gola profonda quando ancora la davano ma vietate 4 a 18 durava 20 secondi cioè erano tagliate le scene porno non c'erano film il contaggio analogico esatto vedete questo qua però e siccome lì a Firenze c'erano i ragazzi dell'università che hanno fatto la serata a Gugliardia perché il cinema teatro Arlecchino diventava dal giorno dopo diventava cinema porno quindi hanno voluto fare la serata mi hanno chiamato meschi che io cantavo non me la danno mai c'era Monapozia ancora i tempi e poi c'era un punto sono partiti a tradimento e hanno dato gola profonda il film proprio che avete visto tutti che è un film di fantascienza non fidatevi di queste cose qua e c'è stato dopo 30 secondi c'è stato il gelo perché all'inizio ridi un po' poi c'è proprio il gelo non sai più dove cioè facciamo un post effetto ora c'era un punto in questo film c'era questa che c'era un punto tromba 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 c'era un punto vai in cucina prende un bicchier d'acqua parla con la sua amica telefona c'era un punto un momento di angoscia terribile e una sempre io mi sono trovato non lì però io gioco a boccetta la domenica sera in un barretto a Spezia terrificante vabbè un bar orribile si chiama Epibaro il bar più triste del mondo però dove c'è c'era uno che era la maschera del cinema di Spezia che si chiamava Diana un cinema piccolino dove davano il porno per i marinai il porno per i marinai alle 10 di mattina cioè alle 10 di mattina non c'è cosa più triste del mondo alle 10 di mattina vedere un porno e c'era un punto sono finiti i marinai anch'iuso l'arsenale eccetera sono rimasti ultimamente due vecchietti due vecchietti uno davanti uno in fondo ma giuro non è una barzelletta che guardavano lì come i mappet e questo film qua lo dico a qualcuno perché è una battuta da popolare è diventata una cosa meravigliosa questo film qua è arrivato la maschera è detto la game film terribile e dopo 20 anni che faceva la maschera a film porno si sono bloccati tutti nel bar le macchinette tutti che giocavano silenzio totale perché questo qua è stato un film terribile ci siamo fatti dire come era sto film coi due vecchietti dentro sta sala una cosa tristezza unica dice la game ha una c'era una che nel film andava con un con due con tre con un animale e con il negro il negro dopo l'animale rigorosamente nella scala gelarchica del bar nella scala che c'è c'è un punto ha detto finito ad andare con uno con due con tre animali e il negro c'è un punto si è acceso una sigaretta quando ha finito si è girato il primo vecchietto verso l'altro e ha detto benì ma sta qua ce l'ha tutti i vizi perché fumava cioè io trovo e vi giuro era impossibile uscire da lì no è impossibile uscire da una situazione in un pantano non puoi uscire con una battuta cioè la morte devi scoppiare la bomba dentro e ve ne dico un'altra però è anche questa però molto da provincia perché succedono le cose in provincia spezia una città di sinistra lo dico perché poi uno scrive in un modo o nell'altro ma è questo poi il succo che devi ribaltare le cose c'è una città completamente di sinistra dove il pc era a destra ai tempi figurati te c'era lotta continua lotta comunista lotta di qua lotta di là c'era un punto grandi manifestazioni operaie andavano in giro i portuali vi dico tutto vero c'era un punto di una grande spezia via chiodo parte una grande manifestazione operaia mille persone e uno di destra i fascisti come diceva una volta che tra l'altro lo conoscevamo veniva al bar da noi perché stavamo tutti nello stesso bar poi era un barretto unico stavamo lì ci si conosceva se di vuole senza neanche grandi scazzi c'era un punto in un momento di delirio con una macchina riconoscibilissima ha puntato la manifestazione andando piano piano la manifestazione si è aperta quando ha riconosciuto che era quello di destra uno dei pochi si picchiavano tra di loro per chi poteva prenderlo perché sembrava un dono dell'altro c'è un punto tenendo uno di sarzana è entrato dentro con la testa e cercava di tirarlo fuori con i morsi per un orecchio non si è fatto niente nessuno poi è finita questa cosa qua un graffietto questa è la cazzata però il giorno dopo veramente sembra una barzelletta fantastica una costruzione da barzelletta c'era dentro un alimentari prima che iniziassero tutti i supermercati giganti c'erano gli alimentari dentro le donnette che compravano da Roma c'era un punto una signora di destra era la mamma di questo qua c'era un punto che diceva i comunisti i comunisti i comunisti i comunisti cazzata come una bestia dietro c'era la mamma di un nostro amico di sinistra anche lei ma per abbassare un po' i toni non per politica ha cominciato a dire signora via non dica così non sarà mica anche lei di quelle che dice che i comunisti mangiano i bambini questa dice se li mangia non lo so il mio l'hanno assaggiato ha detto io l'ho trovata io l'ho trovata meravigliosa queste sono le mamme un applauso alle madri perché quindi capisci che però c'è è culturale questa roba qua non so come dire è molto culturale non so come va messa come va data però la trovo geniale insomma la trovo non so chi la poteva scrivere però scusa no gli devo una risposta perché prima dice come si diventa ah come si diventa intellettuale non lo so quello che l'autore di Vespe non lo so eh sì queste cose qua ma poi for si vista for si vista su questi giornali importanti esatto bestia nera dei letterati insomma eccoci e guarda mi ricordo che io da al liceo ero il primo della classe e quindi come tutti i primi della classe oggi qua c'è dal primo all'ultimo mi ha fatto tutta no il primo della classe non cuccavano i primi della classe non cuccano ma neanche gli ultimi però facevo degli epigrammi degli epigrammi in cui prendevo per il culo i professori e venivano pubblicati sul giornale dell'istituto e quelli invece mi rendevano popolari anche con le compagnie di scuola e ho capito che era quella la strada insomma che non era quella dell'essere serio ma insomma ogni tanto fare cioè quindi la gnocca parli fondamentalmente anche in intellettuale cercavo di seguire le tue orbe ma indegnamente sembra una cosa di caserma adesso però no no abbiamo fatto il primo della classe all'ultimo e il capoclasse ci siamo tutti io faccio garrone allora un altro mostro della cultura prendiamolo preso in giro Alessandro Baricco lui se l'è mai presa lo dico anche con accento piemontese lui se l'è mai presa? no assolutamente ma l'ha capita? e questo non lo so perché tutte le volte che ho cercato di telefonare eccetera si è sempre negato perché c'è una vespa che questo evidentemente è uno dei segnali insomma che forse non ha gradito è certo no c'è una vespa molto bella su Baricco Salinger l'autore del giovane Holden c'è da racconti? cos'è? beh diciamo dato che lui dato che Baricco quando è morto Salinger diceva ah ma dice il mito la leggenda dell'invisibilità tutti gli scrittori i grandi scrittori si dovrebbero rendere invisibili ora non mi pare che sia il suo caso allora mi sono divertito a raccontare una serie di questi scrittori che sono un po' prezzemolini che sono sempre dappertutto i premi letterali in televisione o addirittura fanno le attrici come nel caso della Mazzantini immaginando che fossero diventati invisibili per cui c'era un paparazzo che si appostava nelle langhe e riusciva a fotografare con un teleobiettivo Baricco che usciva dalla sua villa eccetera oppure la Mazzantini che andava a fare la spesa con la tata cingalese insomma e cose di questo tipo insomma amenità è sempre fetente veramente veramente fetente l'uomo e Ferrara parlando di intellettuali beh Ferrara c'è qualche cosetta ma non molto non mi pare sì qualcosa c'è ma una volta un obiettivo troppo grande è facile non c'è bisogno di avere una birra su Ferrara so che Ferrara una volta è nato da Minzolini e si sono bisticciati per rimangiare le crocchette so che io mi dissocio difendo Giuliano Ferrara ecco fatto il capoclasse sappiamo Garrone nessuno è perfetto adesso una vespa su di lui allora ci vuole vabbè ma insomma cosa dire altro sono due libri ci sono delle domande domande del pubblico scendo e facciamo le domande Garrone può anche scendere come a scuola scendo io volete fare le domande tutti che si allacciano la stringa dicono che cazzo vuole rompere i coglioni intimiditi come a scuola non è che poi fai la fine di quella di destra che finira in mezzo no che ti assaggiano sennò come a scuola telefoniamo che c'è una bomba andiamo tutti a casa non c'è problema una battuta espressa una vespa espressa un'aria gentile richiesta veramente con me ce l'ha veramente Augas l'ho fatto piangere io ho fatto piangere Augas come ti massacrava no non mi ha massacrato l'ho fatto piangere da ridere cercava di fare il furbo sono andata a raccontare le mie cazzate e diciamo che gli colava questo fardo meraviglioso perché è pluritruccato diciamo ah scusate pensavo fosse arrivato uno a mettere davvero una bomba quindi no però è stato divertente per Augas che fa delle cose molto intellettualotte molto serie molto così chiamare me ma credo che si sia basato anche Augas dal fatto che così non potranno dire che non c'era neanche un cane è un critico che ha espresso e Augas però secondo me cane critico un critico canem canem e e quando credo che abbia visto che una volta nella puntata con la Dandini c'è stato un picco tra me e Augas mentre lo prendiamo un po' in giro ora lui mi ha chiamato da lui il picco negli ascolti negli ascolti che io faccio faccio un uomo picco però poi rifacendo anche lì e abbiamo fatto un altro picco anche lì infatti è andato in replica parecchie volte però faceva finta di fare il trombone ecco questa è la cosa è stato anche divertito abbastanza però lui che piangeva col fazzoletto non capivo e piangeva veramente quindi un urlo anche mia moglie quando finge fa sto verso lo dicono i miei amici non ci sono mai a casa dicono che fa sto verso va beh ringraziamo Dario vi chiudo basta vi chiudo con una cosa vi chiudo il bar il bar l'unione tra intellettuali perché spezia che la provincia così c'è il presidente dell'ordine degli avvocati che scrive anche lui delle cose aforismi eccetera che alla sera frequenta il bar dove vado io perché poi c'è questa unione meravigliosa questo grogiolo di cazzeggio fantastico che non vede non fa sconti a nessuno veramente indipendentemente da tutto e al bar era successa questa cosa qua quando han tirato il duomo a Berlusconi gli han tirato sto buon uomo a testa allora noi abbiamo scritto subito delle battute ma però non si potevano fare perché era una cosa violenta ci dissociamo non si tirano le cose gli anziani per strada non va fatto anche quello che ha tirato le scarpe a Bush non è normale a un metro e mezzo non l'ha preso cazzo non è normale però diciamo e c'era c'è subito le battute siccome ho saputo da e mi ricordo forse da striscia la notizia non mi ricordo se è stato lui mi ha chiamato mi ha detto il nostro regista di striscia mi dice che è di igure che mi dice saputo una fantastica Berlusconi è andato dal suo dentista a farsi mettere a posto sto colpo e sembra che gli abbia detto veramente Berlusconi al dentista ha visto dottore cosa mi hanno fatto sono quei souvenir che costano talmente poco che ti tirano dietro l'ha detta lui allora ha detto se Berlusconi se la dice da solo allora apro la cosa al cazzeggio di questa roba qua allora vi giuro bar tirano sta roba qua in testa Berlusconi una cosa grave che non si fa ci dissociamo tutto quello che volete bar due giocavano a boccette e finiamo veramente due giocavano a boccette due giocavano a carte parte il primo e dice parte sto Duomo in testa Berlusconi e il primo dice ulteriore scontro tra stato e chiesa e questa mi è piaciuta uno ha detto ecce Duomo ma era dei vostri io non ho capito cosa ha detto uno invece più greve ha detto voleva tanto sto cazzo di ponte alla fine gliel'hanno fatto il ponte pensando all'altro e uno senza neanche girarsi ha detto geniale ha detto e meno male che c'aveva i tacchi boh ha detto se no gli levavano un occhio e ha continuato a giocare quindi l'applauso lo farei al bar che rende felice il bar rende felice il bar rende felice allora ringraziamo tanto Dario Vergassola con il suo libro Pantarai la notizia scorre e ringraziamo tanto Riccardo Chiaberge con il suo libro Vespe Vespe fatti e misfatti della cultura italiana negli anni di Berlusconi grazie e a Garrone anche un applauso a Garrone e a Garrone